Per la seconda volta in questa stagione il Porto Sant'Epidio segna tre reti agli avversari, dopo il 3-1 all'Agnonese e gli azzurri di Ottavio Paladini si sono imposti per 3-2 contro il forte Castelnuovo di Guido Di Fabio, oggi in tribuna per via della squalifica rimediata dopo la partita con il vasto Girardi. A senze importanti dall'una e dall'altra parte, primo vero caldo estivo che si è fatto sentire, per i neroverdi abruzzesi alla quarta partita in una settimana serve un filotto di vittorie per assaltare la zona playoff, ma sbattono contro i baby marchigiani che passano già al dodicesimo con Spagna, complice un errore del portiere ospite che in uscita non riesce ad intercettare il pallone. Il Castelnuovo, seppur privo di terrenze e fagioli, è con alcuni elementi non al meglio e squadra solida, ma l'approccio al primo tempo è sbagliato, piuttosto contratto, anche se le sue occasioni le crea, ed è clamoroso il gol annullato a Cellucci che anticipa Cavalieri in modo pulito, ma l'arbitro annulla per un presunto fallo sul portiere. Ma Nari, ex di turno, gioca una grande partita, il gol prova a cercarlo in più di un'occasione, ma poco dopo la mezz'ora arriva il 2-0 locale, apertura dalla sinistra per Spagna, che trafigge Olivieri con un gran diagonale. L'attaccante corre a festeggiare il gol sotto la tribuna, assieme alla famiglia. Una punizione severa per il Castelnuovo, che nella ripresa si presenterà con Lorenzo Emili al posto di Bregasi per aumentare il peso specifico offensivo. Abruzzesi che accorciano all'ottavo grazie ad un calcio di rigore trasformato dall'Oviso per un fallo in area ai danni di Manari. Aumentano i giri del motore nero-verde, Gentile manca di un niente il 2-2 e Cavalieri è strepitoso con il colpo di Reni quando disinnesca la girata di Emili al diciassettesimo. Il pari arriva al venticinquesimo, percussione di San Severino sulla destra, traversone al centro su cui si catapulta Cellucci, ininfluente la deviazione di Ravanelli. Neppure il tempo di festeggiare che il Castelnuovo è costretto nuovamente ad inseguire. Azione veloce dei locali, traversa di Raffaeli, il pallone resta ancora in zona d'attacco per i marchigiani, con Palladini che va al traversone basso, su cui Indoia prova a liberare, ma la palla scivola alle spalle di Olivieri. Finale di gara che riserverà ancora qualche emozione, il 3-3 di De Gidio viene annullato per la posizione di offside di ben due giocatori ospiti. Ancora Cavalieri, protagonista con un intervento da gran portiere. E nell'ultimo dei cinque minuti di recupero, cartellino rosso a Giuli per un brutto fallo da Tergo, per i locali tre punti che consentono di lasciare Fanalino di coda all'Agnonese. Il Castelnuovo con questa sconfitta abbandona invece il sogno play-off. Mister Palladini, che significato ha questa vittoria? Vittoria è importante per i ragazzi perché da quando sono arrivati si sono sempre impegnati, hanno sempre lottato e abbiamo detto di onorare il campionato fino alla fine dopo che è arrivata la mazzata della ritorcessione diretta. Quindi complimenti a loro perché anche oggi non era semplice contro una grossa squadra, una squadra che per il Covid purtroppo sta giocando in una settimana quattro partite. E paradossalmente nel secondo tempo ci hanno messo in grossa difficoltà perché forse ci siamo impauriti, non lo so, però stanno molto bene fisicamente. Nonostante, ripeto, giochino quattro partite in una settimana, ma questo va dato merito al Guido Di Fabio che ha plasmato una squadra già l'anno scorso per quello che sta facendo alla grande. Intanto per la seconda volta in questo campionato tre gol ad un avversario, era già accaduto all'Agnonese, oggi però al Castelnuovo come hai detto tu poco fa, una signora squadra. Sì, sì, la signora squadra si è vista anche oggi, nonostante tutte le assenze che ha durante questa pandemia, questa cosa che gli è capitata in questo ultimo mese, chi è entrato ha fatto veramente bene. Noi abbiamo stretti dendi, forse, ripeto, l'inesperienza ci porta quando subiamo un gol ad avere un po' di paura, però siamo stati barati sul 2-2 a fare quell'azione e crederci fino alla fine. L'abbiamo riacciuffata, l'abbiamo vinto una partita difficile, quindi merito loro e complimenti a questi ragazzi. Mister, l'avevate riacciuffata questa partita sul 2-2, un minuto dopo però il Porto Sant'Eppidio colpisce una traversa e realizza il gol del 3-2 complice la deviazione d'Indoie. Primo tempo però siete apparsi un po' contratti. Sì, il primo tempo siamo partiti un po' lentamente, anche il fatto che venivamo da tre partite, questa era la quarta settimanale, quindi i ragazzi erano un po' stanchi, anche il recupero del viaggio di Vasto Girardi, il sabato mattina riallenarsi. Non è facile mettere su una squadra, tenere gente infortunata fuori, gente che deve recuperare, però abbiamo dimostrato ancora una volta che questa squadra è viva, che questa squadra ha acquistato una mentalità di non mollare mai. Alla fine avevamo riacciuffato questa partita che meritavamo almeno il pareggio, se non la vittoria, però purtroppo le cose ultimamente non vanno dalla nostra parte. Vediamo il gol di Cellucci che mi dicevano che era regolare, però non facciamo problemica su questo, andiamo avanti. Abbiamo un gruppo meraviglioso, un gruppo che lotta e un gruppo che vuole vendere cala la pelle e finire questo campionato nel miglior modo possibile.